In provincia di Cosenza, dopo otto anni, la strada provinciale Montalto Fugo-San Vincenzo-La Costa-San Fili, interrotta per un dissesto idrogeologico in località Magli, nei pressi della frazione di San Sisto dei Valdesi, è stata riaperta al traffico con il sindaco di San Vincenzo-La Costa Ernesto Filippo, che alla presenza di altri amministratori del consigliere regionale Mauro Dacri, in occasione della cerimonia inaugurale, ha tagliato il nastro della nuova strada. Beh, penso che sia una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale di San Vincenzo-La Costa. Siamo riusciti in un'impresa, a dire poco, titanica, perché erano otto anni che il paese di San Sisto era completamente bloccato. Basti pensare a tutto il commercio che si era bloccato, i disagi per gli studenti, per i ragazzi, per i lavoratori, perché non potevano passare con la strada che abbiamo ricavato, non potevano passare pullman. Un paese bello come San Sisto era tagliato completamente fuori da qualunque forma di realtà.